Abbandonare l'auto, quella propria almeno, e sentirsi più liberi di spostarsi grazie a una macchina a noleggio da poter prendere nei punti di prelievo individuati in città, aeroporto, piazza Primo Maggio, università, precisamente Viale Pindaro e stazione centrale. A Pescara arriva il car sharing e il servizio è stato presentato davanti al palazzo di città dal sindaco Carlo Masci, dall'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia e dai partner del progetto. Una prima flotta di nove auto con tecnologia full hybrid è a disposizione dei cittadini e di chi arriva a Pescara per lavoro, studio o turismo. Scaricando l'app Kinto Share l'utente potrà sbloccare il veicolo, con una prepagata sosterrà un costo che comprende carburante e copertura assicurativa e, aspetto rilevante, si potrà sostare anche sulle strisce blu presenti a Pescara. Vincenzo De Santis, brand manager di Kinto, terzo marchio globale del gruppo Toyota dedicato ai servizi della mobilità, ha illustrato i dettagli. Le vetture saranno diverse, con diverse dimensioni, avranno un costo orario di utilizzo che va dai 5,50 euro agli 8 euro, dipende dalla vettura. Un costo medio comunque che si affaccia sui 6 euro, 6,50 euro. L'importante per la conclusione del servizio è riportare il veicolo in uno degli stalli, non per forza lo stesso a cui si è preso, però magari comunque uno dei tre. Si parte con una sperimentazione di 18 mesi, ma l'obiettivo è prolungare il periodo. L'assessore Albore Mascia. È la prima volta nella storia di questa città che viene implementato il servizio di car sharing pubblico. È un noleggio pubblico che ha delle caratteristiche sensazionali nella prospettiva soprattutto della intermodalità. Che è stata un po' la linea guida di questi quattro anni e mezzo di amministrazione, che ha visto implementare a Pescara il servizio di micromobilità, di bike sharing e oggi invece attiviamo il servizio di car sharing. ...e misurabili per le comunità. Non siamo proprio in un'ottica commerciale, siamo veramente nel rendere i servizi fruibili e sempre più ovviamente di successo da parte del... ...e misurabili per le comunità. ...e misurabili per le comunità. ...e misurabili per le comunità.